Il Forex, o mercato delle valute, dà la possibilità di fare trading in entrambe le direzioni, vendita di una valuta e acquisto di un'altra e viceversa. Quindi offre sempre molte opportunità al trader che ha la medesima possibilità di operare in mercati ascendenti o discendenti, a differenza di quanto avviene sui mercati azionari. Inoltre, il mercato Forex è aperto 24 ore su 24. Vendi se pensi che il prezzo scenderà. Compra se pensi che il prezzo si alzerà. A questo punto scegli la scala temporale su cui vuoi seguire gli andamenti dell'indice prescelto, raccogli i tuoi profitti.